Commercio Cesenate e Imprese per l'Italia ha avuto il merito in questi anni attraverso la sua presidenza, lei è anche vicepresidente regionale dell'Emilia Romagna, ad aver posto una serie di temi sotto il profilo soprattutto economico, ma anche del vivere nelle città. Questa sera propone lei insieme a tutti noi, i nostri protagonisti, un tema che riguarda non una città, ma una valle, una valle importante attraversata da un fiume importante, signor Presidente. È una valle importantissima, è la Valle del Savio, che nel nostro territorio è molto conosciuta, noi gli vogliamo aggiungere Valle del Savio e dei laghi, perché i laghi creano un'emozione, quindi quando uno vuole andare in vacanza normalmente va ai laghi, al mare, in montagna, il Savio forse rende meno, però è una valle bellissima con diversi laghi e ce n'è uno in particolare che è trascurato da troppo tempo e che credo che noi dobbiamo fare da stimolatori, i nostri amministratori, i decisori, quelli che devono decidere di poter mettere questo lago di nuovo a regime, perché noi siamo una grande rappresentanza di imprese, quindi rappresentiamo il terziario, il turismo e quindi una valle con i laghi vuol dire turismo per il nostro territorio e quindi noi cerchiamo di fare questo. Certo Presidente che dopo gli anni 50, durante i quali, nei quali si è parlato a lungo e ancora veniva da lontano il tema dell'invaso di Ridracoli, perché allora si chiamava così l'invaso di Ridracoli, probabilmente allora c'era una discussione in ordine e in collegamento anche alla valle dei laghi, poi per decenni non se n'è parlato più e lei oggi la riprende questa storia. Per decenni purtroppo non se n'è parlato più e noi la vogliamo riprendere perché credo che un lago in questa valle sia importantissimo, anche perché un invaso di acqua può dare anche degli altri benefici e quindi credo che sia arrivato il momento. Quindi l'utilizzo delle acque in questa valle, la valle del Savio che poi dall'Appennino non è casuale, e questo è interessante, che intorno al Monte Fumaiolo nascono tre fiumi importanti, il Flavus Tiber che è il biondo Tevere, non è più biondo, che va verso Roma e poi quella buonanima spostò leggermente i confini per portarlo in Romagna, il Savio di cui parliamo questa sera e perché no, dall'altra parte Marecchia perché nasce dal Monte Fumaiolo, dalle Piendici del Monte Fumaiolo, molto importante, quindi il Savio, lo riportiamo al centro della scena. Il Savio è uno dei fiumi più lunghi della Romagna. È vero, uno dei più lunghi della Romagna. E quindi è un fiume molto importante, ma nello stesso tempo valorizziamo anche questi laghi che noi abbiamo in questa vallata, che può portare veramente turismo e quindi benessere ai nostri territori. E questa sera cercheremo di arricchire questi temi anche con altre iniziative, per esempio la ciclo pedonale, la ciclovia. La ciclovia. Si possono realizzare molte cose nella nostra vallata. Dobbiamo stare tutti insieme, cioè la valle del Savio dove insistono diversi comuni o dobbiamo fare tutti insieme perché siamo un unico territorio. Noi vogliamo, stiamo sponsorizzando da molto tempo a questa parte il brand Romagna. La valle del Savio rientra tutto tondo nel brand Romagna e quindi la Romagna ce l'abbiamo nel cuore, siamo romagnoli. C'è un mio amico Savelli che ha scritto anche un libro che dice siamo tutti italiani, ma solo noi romagnoli. Noi siamo romagnoli. Quindi valorizzazione di questa valle sotto il profilo turistico, ambientale, idroelettrico, che è importante e perché no, la valorizzazione enogastronomica. Perché da noi si mangia bene, lo sanno tutti e vogliamo dire che da noi si sta veramente bene. E poi, perché non ricordare che recentemente, caro Presidente, lo chiederemo alla sindaca di Mercato Saracenio subito dopo la sigla, è stata fatta un'indagine, ho letto da qualche parte, un'indagine molto interessante, il collegamento all'Wellness con la forma fisica. Direi che un altro grande imprenditore del nostro territorio che è Nario Alessandri, che ha lanciato la Wellness Valley, credo che noi di Valli ne abbiamo veramente molto importanti in tutta la Romagna, quindi brand Romagna su tutto. E allora cosa facciamo? Mandiamo la sigla e cominciamo ad andare a percorrere questo itinerario del ciclovia, ma alla scoperta dell'intera valle del Savio. Prego regia. Essere imprenditori è una sfida continua, affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. www.confcommerciocesenate.it Romagna capitale Romagna ballerina Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina Romagna passione da che specchi nel tuo mar Romagna capitale Romagna superstar E diamo inizio, come dicevo, col presidente Augusto Patrignani al nostro itinerario, però per farlo, soprattutto per capire, perché noi romagnoli facciamo presto, capiamo dov'è il Savio, cosa fa il Savio, da dove parte, dove arriva, sfocia il mare, però bisogna pur dirlo, signora sindaca di Mercato Saraceno, che vale è questa, da dove inizia, va al mare, il fiume Savio si butta nei pressi di Lido del Savio, mi aiuti. Allora grazie, innanzitutto buonasera a tutti, queste sono immagini che vanno fuori dalla Romagna e quindi diamo una piccola spiegazione di quello che è il nostro territorio. Il Savio, diciamo, nel suo flusso, sfocia, come diceva il nostro relatore, nel mare Adriatico, però attraversa diversi comuni. Io ho la fortuna di aprire la vallata del Savio come mio territorio, Mercato Saraceno, che è il primo comune, diciamo, che si incontra appena si esce dalla città di Cesena, che è la nostra città di rimpettaia più importante e come numero di abitanti e come estensione territoriale. Mercato Saraceno, come dicevo, è il primo comune, ha un'estensione di circa 100 chilometri quadrati, una popolazione di circa 7 mila abitanti e lo dice il nome stesso per, a scanso di equivoci, non ha niente a che fare con i Saraceni, ma deriva proprio da una famiglia molto importante all'epoca della Ravennate che ha dato il nome al territorio, Mercato, quindi era stato scelto appositamente proprio per il commercio. Subito risalendo quindi la valle Savio, quindi il nostro tema conduttore stasera è proprio il fiume, troviamo il comune di Sarsina, un comune che ha un'estensione territoriale pari al nostro, ma con un numero di abitanti di circa la metà, quindi parliamo di circa 3.000-3.500 abitanti. Sarsina è conosciuta in tutto il mondo per aver dato i Natali a Plauto, e sfido chiunque a non conoscere, e quest'anno ricade il 2.200 anni dalla morte del grande Tito Maccio Plauto. E il lago di cui si parlava prima appunto fa parte di questo territorio insieme al comune che segue, che è Bagno di Romagna, un altro comune di ampia estensione con un nucleo abitativo concentrato su due centri principali che sono San Pierimbagno e Bagno di Romagna, e anche qui si contano circa 7.000 abitanti. Per arrivare poi in montagna, come diciamo noi, che è appunto il comune di Vergretto molto esteso, con pochi abitanti perché ha seguito un po' quello che è il flusso di emigrazione che ha caratterizzato il nostro territorio negli ultimi tempi. Quindi noi vogliamo riportare la gente in valle, la vogliamo riportare proprio attirandolo con tutti i mezzi a nostra disposizione, che è appunto il territorio, come si diceva prima, che è l'ambiente, che è il vivere sano e il mangiare bene. E qui mi riallaccio a tutti gli argomenti che sono stati affrontati fino a ora. E allora, si ferma un secondo perché per lei ho queste due domande. Mangiare sano, mangiare bene. Questa indagine è stata condotta, se non sbaglio, proprio nel comune di Mercato Saraceno. Il wellness, la forma fisica. Esatto. E' ultima notizia proprio che il vivere sano, il fare sport, viene anche prescritto adesso come cura medica, di fronte alle patologie più importanti che affannano e diciamo gravano sulla popolazione adesso. Perché diciamo mangiamo bene ma purtroppo mangiamo troppo. Quindi vivere sano e uno stile di vita corretto viene prescritto proprio come ricetta medica, come prima forma di salute. E però io, lei ci ha dato una visione di insieme. La visione di insieme comporta un'italietà. Chissà che un bel giorno davvero la valle non sia tutta un'Italia. Allora guardi, io faccio parte dell'Unione Valle Savio, cioè il mio comune fa parte dell'Unione Valle Savio. è un'unione che è partita nel 2014 che al momento sta portando quattro funzioni fondamentali a cui se ne aggiungono altre proprio per il tentare di lavorare insieme in molti settori. Ne cito alcuni per esempio, il settore sociale, la protezione civile, il campo informatico. Ecco, sono tutti settori che al momento stiamo unendo. Siamo reduci anche da uno studio di fattibilità di fusione condotto dalla società Susio e diciamo si possono trarre dei dati molto interessanti. Sui quali torneremo, signora Sina. Torneremo perché alle organizzazioni di imprese come la Confcommercio la semplificazione proprio sta molto a cuore per lo sviluppo delle imprese e per l'utilizzo di tutte le risorse. Quindi a voi, in capo voi c'è una grande incombenza. Sono comodi, signora Sindaco. Io però per inquadrare, Presidente, per inquadrare per i nostri telespettatori chiederei all'ingegnere Marini, che è un po' la memoria storica oltre che tecnica. Lì Alessio Zeni, che è il nostro maestro, guardate questo insieme d'acqua. L'ingegnere Marini è colui che è vissuto nell'acqua e per l'acqua dall'inizio della diga di Dracoli. Poche dati importanti. L'itinerario. Dunque, la Romagna è sempre stata scarsa di acqua nella storia. Dopo guerra c'è stata la grande necessità per i comuni romagnoli di poter avere una sorgente alternativa ai posti per alimentare tutta la Romagna. Si costituì un consorzio che si chiamava Consorzio Acque per le Province di Forlì Ravenna, formato dai comuni di queste due province, per costruire uno sbaramento su un fiume molto importante che è il fiume Bidente che storicamente si chiamava Flumen Aqueductus, dove già ai tempi di Tiberio prima e poi di Teodorico erano stati costruiti degli sbaramenti per alimentare con acquedotto Ravenna. E non è casuale che proprio in quel di Galeate vi sia la villa di Teodorico e poi scendendo c'è il capitano delle acque del periodo romano, Cusercule, Cusa, Herculis. C'è tutta una storia del tempo romano. A Meldola addirittura, dove c'è il ponte dei Veneziani, il cosiddetto famoso ponte dei Veneziani, il ponte Veneziani costruito sullo sbaramento che aveva fatto costruire Tiberio a quei tempi. Il consorzio ha ideato e progettato una grande diga, forse una delle ultime dighe costruite in Italia di grandi dimensioni, che è alta 104 metri e ha un sviluppo di 430 metri in calcestruzzo, in una zona anche sismica, per cui ci sono state polemiche a quei tempi sul tipo di costruzione, su tutte queste varie cose. Prima polemiche tecniche, poi polemiche ambientali. La diga comunque è stata costruita anche in tempi rapidi. Io fortunatamente ho partecipato fin dall'inizio alla costruzione, alla progettazione e costruzione di tutta quest'opera. E devo dirvi come cosa forse di anteprima che in quest'anno, alla fine di settembre, un comitato internazionale delle grandi dighe ha consegnato a Romagnacque un premio importantissimo in Cina, dato da una commissione formata da cinesi e americani alla diga di Ridracoli, considerandola la miglior diga d'arco gravità costruita in esercizio. Torneremo, si fermi qui perché non esaurisca tutto l'effluvio di acqua, no? Perché vorrei che Davis inquadrasse questo libro di Alberto Malfitano, Il governo dell'acqua, Romagna Acqua e Società delle Fonti, dalle origini a oggi, 1966-2016, cinquantesimo, 50 anni di questa attività. Mi corre obbligo, e sono sicuro anche per i più giovani, ricordare quello che insieme agli ingegneri marini è stato allora ben nominato l'imperatore delle acque. Lo ricordo anche, davvero anche personalmente, Giorgio Zaniboni, che fu il presidente proprio della diga, del consorzio dei comuni della diga e fu anche sindaco di Folli, indimenticabile e indimenticato. Così costruiamo la storia e la costruiamo anche dicendo che oggi Tonino Bernabè, che sentiremo subito dopo, presidente della Società delle Fonti oggi, di Romagna Acqua e Società delle Fonti, ci darà un suo contributo. Ebbene, però andiamo a vedere intanto con i nostri presidenti e i due comuni come vogliamo affrontare il problema. Lei non ha finito, stia pur certo. Sarsina, vice sindaco di Sarsina, stiamo parlando di un tema e soprattutto di un territorio che lei conosce molto bene perché si inquadra nel suo territorio, se non mi sbaglio. Quarto. Certo, quarto è una frazione di Sarsina. Come ha detto prima la Monica Rossi, un piccolo comune con un lago che da troppo tempo è stato dimenticato. C'è stato un progetto del 2004 che ha visto una prima fase di pulizia e poi è stato interrotto. L'amministrazione nel 2015 ha pensato di rimettere le mani a un nuovo progetto che dovrebbe riqualificare un po' l'ago di quarto. Quindi magari stasera ne parliamo. Sì, un progetto ha rimesso mano per riqualificare. Riqualificare vuol dire tanto. Poi bisogna definire come riqualificare totalmente, ripulirlo, svuotarlo, rilanciarlo. Significa tutta una serie di cose. Sono tanti i soggetti che possono essere interessati e comunque debbono essere coinvolti in questa operazione di riqualificazione. Certo, i soggetti sono molti, come ha detto lei, iniziare dal Ministero dell'Ambiente, la Regione, Romagna Acque, il Comune e anche l'Unione Valle Savio. Non dimentichi mai Enel, ai fini idroelettri. E poi, era l'ultima voce che dicevo, ma non è che l'ultima, perché è la meno importante, Enel, che è quella che è da 50 anni che ha l'utilizzo del lago. Quindi è un altro ente che ha già partecipato nel primo progetto per la pulizia del lago. Quindi Enel Green Power, oggi sarebbe poi. Oggi Enel Green Power, sì. Enel Green Power. Certamente, Presidente, Signora Sindaca, poi ci sono altri enti, perché come si fa a dimenticare il parco delle foreste casentirese? È impossibile, perché è direttamente collegato se vogliamo pensare allo sviluppo turistico ambientale. Siamo pieni di enti. Siamo pieni di enti. Questo lei lo tiro fuori proprio in un momento nel quale c'era un enti che doveva essere cassato, che era quello inutile, davvero del tutto inutile, anche perché lo conosco personalmente, avendolo frequentato, che lo sapete benissimo, il CNEL invece hanno brindato che va avanti. Quindi andiamo avanti. Siamo pieni di enti e gli enti sono anche importanti. Il problema è che quando li dobbiamo mettere attorno a un tavolo per metterli d'accordo, ci sono anche delle prime donne e quindi molte volte questi enti non riescono a trovare l'accordo, perché non sempre si vede il bene comune, ma si vede qualche altra cosa. Però ci sono e quindi dobbiamo fare i conti con loro e dobbiamo riuscire a fare in modo che trovino l'accordo. Ma i presidenti delle due confcommercio di Mercato Serraceno e Sarsina, cosa pensano, cosa vogliono? Cosa vogliono i vostri iscritti, gli aderenti, le vostre imprese e soprattutto il territorio, la gente? Noi crediamo che questa opportunità sia da sfruttare indubbiamente perché dal punto di vista commerciale e dal punto di vista turistico è un volano enorme per tutta la vallata, non solo per il lago, ma per tutta la vallata, perché come è stato detto giustamente prima, nella vallata abbiamo tutto, abbiamo l'enogastronomia, abbiamo la storia, abbiamo la cultura, quindi praticamente questo potrebbe essere un ulteriore passo verso la valorizzazione. Crediamo che effettivamente se si riuscisse a mettere insieme con tutta la buona volontà di tutti gli attori in campo, finalmente riusciremmo avere un qualcosa per attirare verso di noi anche tutta quella parte di gente che viene in Romagna per il mare. Il mare è importante, però dietro al mare ci sono delle realtà come la nostra che sono sicuramente di aiuto anche per loro perché possono portare benefici enormi e noi lo sappiamo perché chiaramente viviamo di commercio. Romano Rossi, Presidente del Commercio di Sarsina Io penso che sì, il lago di Quarto va rivalutato proprio perché è un'oasi, un posto meraviglioso immerso nel verde in cui potrebbe sviluppare in un modo anche molto propisco propisco per il paese e il comune e proprio anche per la vallata del Savio. Un lago del genere nella valle del Savio sarebbe veramente uno sviluppo importante perché potrebbe riportare turismo, potrebbe sviluppare in un modo anche proprio per l'economia della valle. Un lago che comunque anche se non si potesse fare degli interventi totali si potrebbe comunque intervenire già partendo con un progetto come è stato stabilito dal comune, è stato presentato un progetto per rivalutare intanto la zona sulla parte del paese che potrebbe essere una rivalutazione importante per iniziare a portare del turismo perché oggi come oggi altrimenti diciamo che il lago come si vede non è che sia molto presentabile. Poi comunque si può continuare valorizzando la zona con dei sentieri e dei giri escursionali che sarebbero insomma importanti anche questi. C'è Giuseppe Satanassi che è presidente del comitato cittadino di laghiamo eh? Di laghiamo Quarto Sarsina Buonasera Si può fare? Non si può fare? No, si deve fare ma non è un imperativo così un diktat è una cosa giusta fare prendersi cura riprendersi cura custodire il territorio dove noi Tanto avete visto le immagini pieni di canne del lago questo è lo sbarramento della piccola sbarramento dell'Enel idroelettrico Esatto Sì queste sono scene girate con un drone Con un drone No, dicevo che è una cosa al di là delle infinite opportunità e utilità che queste sono innegabili e sulle quali tutti possono che concordare è una cosa giusta che ha un quasi un senso pedagogico nel senso che le persone hanno l'urgenza di ritornare a farsi custodi della terra viviamo in un momento in cui abbiamo capito che lo sfruttamento e questo approccio ha dato i suoi esiti appunto disastrosi e noi parlo a nome del comitato di Laghiamo che si è formato in questi mesi siamo interpreti del fatto che la visione di un lago abbandonato a se stesso richieda proprio l'intervento dell'uomo che può essere fatto anche attraverso semplici opere ma può essere anche l'inizio perché io la interrompo continuamente mi deve scusare però queste immagini sono molto belle perché tra l'altro ci fanno vedere intorno sia il lungo fiume sia il lago quel po' che rimane del lago diciamo così ma pieno di verde un ambiente meraviglioso esatto io ho potuto percorrere intorno al lago a piedi e andando a piedi intorno al lago passando dall'altra parte rispetto al fiume e rispetto all'E45 si scoprono davvero dei paesaggi degli ambienti in un sistema molto interessante da vedersi e da vivere persone che noi siamo cresciuti nel lago parlo di me dei nostri amici del comitato di molta gente di quarto e non solo si aprono degli scenari inediti che vanno frequentati vanno resi fruibili devono diventare emozione e l'emozione dal nostro punto di vista è molto forte Presidente Satanasio non ho nessun dubbio credo noi non avremmo nessun dubbio Presidente però qui vale la pena I have vedrino ho avuto un sogno oppure ci svegliamo mi aiuti mi aiuti lei è un sogno o qualcosa di reale vice sindaco del mercato saraceno è un sogno percorribile nel senso che sicuramente è difficoltoso ma va percorso fino in fondo il lago di quarto è un valore che rappresenta si trova nel comune di Saracena ma rappresenta indubbiamente tutta la vallata quindi la vallata è una vallata unica all'inizio di trasmissione si parlava di unione si è parlato di momenti aggreganti in momenti di interesse comune per Frasica e la vallata diventi un'unica vallata non solo come territorio perché il fiume è unico ma proprio come cultura come menti come gente ed è proprio per questo motivo qui che a Unione appena nata come amministrazione comunale abbiamo proposto all'interno dell'Unione una idea progettuale unica che è la famosa ciclovia del Savio ecco ci spieghi un po' perché ne sentiamo parlare la ciclovia del Savio quando l'idea è nata è nata come un'idea che doveva collegare Cesena con la parte alta del territorio Bagno e Verghereto quindi unendo i comuni di Mercato di Sarsina di Bagno e di Verghereto e in gran parte costeggiare il fiume Savio che è il tema di questa serata percorrendo parte mi scusi perché bisogna che siamo come devo dire abbastanza chiari nei confronti perché chissà quelli che vengono da Stade della via Romea Germanica che sappiano che ci sono dei pezzi già della statale già esistente fra l'altro già attualmente Cesena è tramite un insieme di piste ciclabili piste ciclopedonali collegate con la focia del Savio cioè si arriva già alla focia del Savio in bicicletta da Cesena se si completa l'opera e da Cesena si arriva a Bagno idealmente si potrebbe fare una comunicazione da parco a parco parco del Crinale con parco della focia del Savio è una progettazione che trova corrispondenza in quello che è il piano regolatore regionale delle ciclovie questa è la ciclovie numero 5 o ciclovie dei Romei quindi individuata nel piano regolatore regionale inserita tranquillamente in un contesto che è ancora più ampio della regione perché si collega lungo l'Adriatico con la parte alta dell'Italia fino ad arrivare con l'Europa quindi sarebbe un segmento estremamente importante estremamente fruibile dico ho usato il termine era e il termine sarebbe perché il progetto iniziale che era nato in un certo modo poi si è dovuto ridimensionare si fermi qui che adesso io voglio capire ancora meglio guardiamo in telecamera per cortesia l'ingegnere Loris Venturini geologo progettista della ciclovia del Savio però conviene che ci diciamo perché altrimenti dopo andiamo avanti a pezzi e a bocconi che diciamo che il ministro del turismo no non solo regionale nazionale ha intrapeso una storia e un tragitto secondo me è molto interessante io lo seguo da vicino che è la stesura di una rete a livello nazionale di ciclovie e dall'alta di pedonali vie pedonali dalla francigena che scende alla romea e noi nel nostro territorio che mi risulti a livello regionale entra in questo contesto tra l'altro vi interessa da vicino la via di San Vicinio la via di San Romualdo alla via di San Francesco e potrei continuare per dire che ricchezza che modo ci sarebbe per mettere insieme caro ingegnere queste vie e fare turismo davvero perché siamo bravi ma noi viviamo a pezzetti pensiamo che noi siamo i migliori però bisogna che facciamo sto tentativo prego guardi in telecamera ciclovia progetto il progetto la ciclovia del Savio è inserita come diceva Anton prima nell'ambito delle rete del piano regionale delle reti ciclabili è un percorso che viene che ricalca un sistema a livello nazionale che è quello di Bicitalia proposto dalla FIAB della Federazione Italiana Amici della Bicicletta che percorso di 800 km nel suo sviluppo complessivo che parte dalla Trevisio e arriva fino a Roma percorrendo la parte adriatica percorrendo la valle del Savio e anche quella del Tevere ovviamente fino a arrivare a Roma quindi è un itinerario di grande interesse turistico tanto per dire alcuni numeri diciamo il cicloturismo a livello europeo ha un'importanza notevole cioè i numeri che mette in gioco vengono valutati 44 miliardi di euro è una cartina che con me purtroppo i tempi che abbiamo che cos'è questa questa è una cartina che riprende il discorso delle vie di pellegrinaggio quindi la via dei Romei sì perché stiamo parlando anche di vie dei pellegrini attenzione perché chi abbia io sono uno di quelli che ha fatto solo gli ultimi 150 km del cammino di Santiago però qui potremmo davvero costruire ci vuole tempo costanza metterli in rete sarebbe interessantissimo abbiamo un patrimonio storico culturale che è notevole ingegnere sì chiaramente anche perché la valle del Savio storicamente era una delle valli utilizzate dai Romei quindi dai pellegrini che si ricavano a Roma unitamente alla via germanica di Stade che ripercorre invece la valle del Bidente e poi si ricongiunge da Santo Sofia converge verso Bagno di Romagna e poi va verso Roma e quindi è una riscoperta di un'antica via di pellegrinaggio che diventa però un itinerario importantissimo dal punto di vista cicloturistico che nella seconda parte invece descriverà i passaggi dell'itinerario perché per questo primo giro io ho bisogno di capire dai nostri tecnici il geologo i geologi capire ma quando il presidente di Dilaghiamo dice io ho avuto il sogno che dobbiamo realizzare ma geologicamente l'ingegnere Marini ci ha detto all'inizio che allora all'inizio della costruzione della diga c'erano problemi caro presidente per quanto riguarda le influenze sismiche a Santa Sofia Civitella la Vallata e qui com'è il terreno? Come sono gli strati geologici? Caratteri fisici quindi volevo solo dire una cosa prima direttore sui caratteri fisici che all'inizio sono stati accennati ma mi pare che sia una cosa molto interessante la singolarità del fiume Savio è questa nasce da un ammasso calcareo che è proprio diciamo così ubicato sulla vetta del crinale è una cosa singolare una cosa che non ha nel bidente e nessun altro cioè la spieghi meglio questo passaggio è una specie di come posso dire siamo in clima natalizio di pannettone sopra a un crinale cosa succede? con l'orogenesi appenninica si è alzato e quindi è tutto fratturato frantumato ed è per quello che immagazzina tanta acqua tant'è vero che Moia mi sembra di aver capito che in arabo significa acqua acqua sì tant'è vero che quindi il discorso anche poi dell'abitato di mercato saraceno mi pare molto calzante la penetrazione che facevano i saraceni era quella attraverso le vie fluviali certamente non è che percorrevano quindi da lì probabilmente la zona di Ravenna si addentravano nei territori quindi qui in Romagna praticamente hanno percorso tutta la valle del Savio e sono arrivati proprio fino al crinale e di qui ci sono le serigioni io la devo interrompere prego perché non ho ancora affrontato un tema che è estremamente interessante caro Presidente forse qualcuno di noi lo sa cosa successe quando parte del monte piombò sul fiume Savio morirono 18 persone e si formò la diga era il 21 marzo le ore 8 del 1812 ecco me la fate la storia per favore no c'è una bella descrizione proprio di un tecnico di un ingegnere del tempo di allora che fu incaricato dal governo pontificio esatto prego se posso dire perché è cosa anche simpatico diciamo carina merita dice riportare la bella descrizione del fenomeno che fa l'ingegnere pontificio da Giovanni Bertoni nell'anno 1812 alle ore 8 anzi il mezzodì del 21 marzo il culmine di Montalto elevatissimo e dominatore di ogni altura circostante si aprì dalla cima per mezzo in una larga e profonda rupina dove c'è sono anche le località adesso si chiamano appunto rupina dove anche abitano i signori satanasi l'enorme scoscendimento si vide fra densi nubi di polvere calare tutti insieme con le capanne e i pastori e giù per essere attratto dalla voragine poi come di un balzo tutto sparire e capovolto e chiuso nelle sue viscere bene a me sembra di vedere un'altra più recente drammatica storica che fella il pizzo coppetto il pizzo coppetto quando improvvisamente ha sepolto come sapete qualcosa come 350 persone stiamo parlando di 15 anni fa quindi questo è successo nel 1812 l'ha fermata dopo torna mi raccomando voglio terminare il giro con il collega vicino prego dottore si allora aggiungo in più qualcosa sul lago di quarto nel senso che ho avuto il piacere con il comune di Sarsia di diciamo dare vita a questo progetto di riqualificazione il lago di quarto come lo vediamo nelle immagini nelle bellissime immagini che passano è molto diverso da quello che è stato per tanti anni da quello che rimane nella memoria collettiva dei popoli che hanno abitato questo tratto della valle del Savio considerate che il lago di quarto è arrivato ad avere un'estensione di quasi 100 ettari quindi per capirci 200 campi da calcio oggi lo specchio d'acqua libero da canne quello che vedevamo nelle foto ha uno specchio d'acqua di circa un ettaro un ettaro virgola 5 quindi molto ridotto io però credo che questo ad oggi sia un vantaggio un vantaggio che noi abbiamo interpretato in questo modo innanzitutto cominciando a parlare non solo di lago di quarto ma di area umida di quarto e questo ci ha dato lo spunto per arrivare a dire che vorremmo nel progetto che avevamo presentato arrivare a costituire un bioparco secondo me quarto ha tutte le caratteristiche lo vediamo anche posso chiederle però sempre per me per i nostri telespettatori questa definizione che lei ha dato area umida di quarto che cosa significa significa da quello che posso capire io il dintorno non solo il lago ma ciò che costituisce l'habitat su cui influisce il lago no? me lo traduca? è perfetta perché se noi vediamo le foto io ho visto delle bellissime foto dove addirittura si facevano delle regate in barcavela sul lago in delle cartoline però era un lago che era uno specchio d'acqua con suonde prive di vegetazione dove la vita era appunto soltanto all'interno dello specchio oggi con la diciamo con il riappropriarsi di parte dell'area da parte della vegetazione si è creata un'oasi vera e propria è un'oasi ricchissima di specie anche rare vegetali ed animali è una meta tra le più frequentate ad esempio per il bird watching e consideriamo che ha un'importanza strategica per due motivi innanzitutto è l'area umida di una certa consistenza perché comunque gli 80 ettari di una volta in gran parte oggi sono canneto di una certa consistenza mano a mano che ci si stacca dal parco del delta del Po nell'entroterra se pensiamo alla bellissima diga di Ridracoli lo vedevamo anche prima nelle foto però è uno specchio d'acqua privo di vegetazione intorno ecco io purtroppo mi devo fermare per un minimo un po' di pubblicità perché per pulire il lago servono i soldi per mandare una trasmissione servo alla pubblicità quindi A sta B come B sta C quindi andiamo in pubblicità prego essere imprenditori è una sfida continua affrontala con la squadra giusta scegli Confcommercio Imprese per l'Italia con i nostri servizi la tua impresa riparte con una marcia in più www.confcommerciocesenate.it ma Ingegner Marini io dopo questo primo giro che abbiamo fatto nel quale durante questo primo giro ci siamo resi conto dei termini i paletti che circondano questo tema ma la domanda è ma se queste sono le tematiche dopo 50 anni grosso modo perché il progetto fu abbandonato perché quell'idea non fu trasferita in un progetto dunque per finire quel che dicevo prima la diga dei ridacoli fu costruita per alimentare i comuni delle province di Ravenna Forlice-Gena poi si è ampliato tutto l'acquedotto che viene costruito anche la provincia di Rimini per cui si alimentano un milione di abitanti circa per cui occorreva trovare altre risorse idriche da integrare con i pozzi che ormai avevano alcuni problemi e quindi si pensò di sfruttare il lago di Quarto perché la valle del Savio è nel territorio di competenza di Romagna Acque perché il consorzio poi nel frattempo è diventato una società di operazione che si chiama Romagna Acque società delle fonti e quindi si fece un progetto per poter sfruttare la diga di Quarto e l'invaso che nel frattempo si era interrito e rimpicciolito questo progetto prevedeva di spostare una parte del terreno che ha chiuso il lago su un lato e sfruttare ad acqua fluente l'impianto e avere altra acqua potabile a questo punto però c'è stato l'intervento degli ambientalisti che chiedevano che fosse rilassiata anche nei momenti in cui si doveva prelevare molto più acqua di quello che è previsto dalla legge come deflusso minimo vitale per far vivere il fiume e il progetto di fatto è diventato economicamente non più valido nel frattempo dentro a Romagna Acque c'erano altre spinte quella di poter sfruttare le acque del canale Emiliano Romagnolo fare un potabilizzatore per utilizzare quest'acqua e distribuirla assieme all'acqua di Romagna dell'acquedotto della Romagna e della Diga alla Romagna per cui questo progetto di fatto a quei tempi è stato abbandonato accantonato non posso dire accantonato benissimo è stato accantonato volevo dire aggiungere una cosa che è interessante secondo me la valle del Bidente che è parallela alla valle del Savio ha avuto un grande sviluppo economico e turistico secondo me ma non la si vede dalla costruzione della Diga perché la Diga è ambientalmente molto ben inserita perché Romagna ha operato in modo che la popolazione fosse convinta di tutto quello che abbiamo fatto la dimostrazione è il premio che abbiamo preso in Cina che era proprio finalizzato non solo alla parte tecnica costruttiva sismica della costruzione dell'opera ma in gran parte all'inserimento ambientale e al coinvolgimento delle popolazioni se mi permette ingegnere non solo la vallata del Bidente ma prendo per esempio il premio il cuore i benefici a livello comunale si sono sentiti perché poi lì è stata captata dal fiumicello se non mi sbaglio e quindi la sorte che poteva toccare alla vallata del Savio poteva essere simile nella vallata del Savio ci sono delle potenzialità sopra quarto che a quei tempi noi avevamo solo immaginato e poi non si potevano nemmeno dire perché c'è stato un periodo in Italia che parlare di dighe era come parlare di centrali nucleari le dighe sono opere che distruggono l'ambiente che non è vero producono l'energia pulita disponibile producono soldi le romagnaque in cassa un mucchio di soldi su degli anni dalla vendita e dalla produzione di energia e sopra Bagno di Romagna si può costruire una diga che è già ideata diciamo così nel fosso della becca si chiama la diga delle valchirie che potrebbe portando l'acqua alla centrale del quarto implementare moltissimo la produzione di quella centrale quindi si potrebbe trovare il modo di coinvolgere l'Enel in un finanziamento del tutto Romagna e poi la diga di Ridracoli andò avanti anche perché la centrale idroelettrica che è sotto la diga è stata ceduta per 50 anni con una convenzione all'Enel e l'Enel ha a quei tempi tirato fuori 50 miliardi di vecchie lire per poter finanziare l'ultimazione della diga e delle gallerie di gronda che alimentano i miliardi e secondo lei l'Enel Green Power oggi potrebbe essere interessata a riprendere parte di quel progetto ed essere coinvolta facciamo delle ipotesi secondo me se si fa uno studio generale da cui si dimostra che il lago di Quarto produce può produrre la centrale di Quarto diciamo non tanti lago la centrale di Quarto può produrre molto più energia pulita che poi ha un valore economico molto più elevato dell'energia corrente credo che si possa con questo progetto in mano andare a parlare con il presidente e con l'Enel per dire guardate signora come fece il presidente Zaniboni che lei prima ha ricordato quando ha avuto un po' di crisi economica che non si riuscì ad andare avanti con i lavori della diga andò dall'Enel a dire caro presidente dell'Enel noi qui c'è una centrale che produce tanti milioni di kilowatt ore ve la cediamo e voi ci aiutate e l'Enel tirò fuori i soldi e si sviluppò io caro ingegnere nel preparare questa puntata sono andato a vedere delle immagini storiche che sono negli archivi probabilmente anche di Romagna Acqua e di manifestazioni nelle quali venivano coinvolti interi comuni tutte le popolazioni molto interessante questo del coinvolgimento della gente non far vivere il progetto dentro magari al municipio ma coinvolgere la gente nel preparare quarto il progetto dell'ago di quarto andammo a quarto paese due o tre volte a fare delle conferenze nel ristorante del paese perché poi era l'unica sala disponibile in paese e lì erano coinvolti tutti allora c'era il sindaco cappelli che era anche lui un sostenitore di tutto questo però dopo c'è stato il problema ricordiamo anche il senatore lorenzo cappelli che su questo tema ha spinto come sulle 45 e anche lo scarto di un comitato tra parentesi questo di coinvolgere l'opinione pubblica oltre che le sigle giusto perfetto arriviamo subito il tema della discussione utilizzo dell'acqua di quarto per l'uso potabile sì o no che se ne è discusso se ne è discusso abbastanza è stata una discussione forte a livello politico a livello di vallate a livello anche del territorio cesenate non è stato tutto perso perché questo intanto ha permesso anche di fare delle cose ad esempio Romagna Acque ha fatto un intervento di risanamento igienico e sanitario della vallata realizzando il depuratore di vallata la fognatura di vallata il coinvolgimento di tutte le fogliature e anche adesso sono partiti i lavori di completamento della vallata con un suo affluente che è il Torrente Borello con interventi di anche lì ricostruzione e costruzione di fognatura quindi si era già partiti in qualche modo a bonificare l'intera area perché si pensava di poterla poi utilizzare sotto gli aspetti idropotabili poi la cosa non ha funzionato per tutta una serie di motivi che sono molti però qualcosa ha rassiato di positivo però la spinta di questa sera il Presidente Patrignani il Presidente della Confcommercio è proprio questa a riprendere tutte le idee perché mica possiamo fare un box popoli qui per confrontarci tra di noi non avrebbe mica nessun significato se non sotto il profilo storico in genere di Marini ricostruiamo facciamo un bel libro ma gli amministratori dell'opinione pubblica attende delle risposte noi dobbiamo riprendere quel cammino interrotto e la storia la fanno gli uomini e credo che dipenderà da noi e quindi noi ce la metteremo tutta sperando che anche i vari enti che sono che abbiamo chiamato in causa che saranno coinvolti li vogliamo chiamare a dei confronti per capire da loro perché non si può andare in questa direzione l'ambiente lo possiamo migliorare perché l'ambiente così com'è l'uomo quando vuole ha dimostrato che l'ambiente lo migliora quindi perché non migliorare questo ambiente infatti noi come amministrazione di Sarsena eravamo proprio lunedì da Romagna Acque con il suo presidente Tonino Bernabè e c'era Gambi l'amministratore delegato a parlare proprio perché ci sta a cuore noi il lago di Quarto perché come ho detto all'inizio è tanti anni che è stato abbandonato a se stesso e quindi con Bernabè abbiamo fatto diciamo la partenza di un progetto dove insieme alla regione il ministero Enel cercheremo di far ripartire il progetto per vedere il lago diciamo nel suo splendore non nel splendore magari del massimo che ha avuto a suo tempo ma un nuovo splendore bene ma la domanda che mi batte qui proprio sul davanti quando l'ingegnere Malini ha parlato opposizione dei verdi di allora di allora oggi si opporrebbero ancora secondo lei secondo me no ecco lo dico ma no lo dico ma questa è una domanda alla quale rispondo senza bene sapere qual è sia la risposta giusta ma mi immagino di no perché è un modello ecologista che ha capito che non si può dividere la natura e il modello dell'ecologia della natura che ci insegna tante cose da una parte e chiuderlo a chiave e dall'altra parte il modello urbano cioè oggi l'ecologia non è ecologismo è apprendere dalla natura e soddisfare le sue leggi vivendole fruendole quindi non penso che ci sia questa dicotomia tra le due cose però volevo dire ecco che oltre a tirare in causa la bellezza dei progetti è anche utile andare a indagare chi sono i responsabili se ce ne sono del fatto che nulla sia stato fatto fino ad oggi perché è anche molto interessante ed è per questo che in una trasmissione come Vox Populi anche le persone possono interessarsi come il comitato che abbiamo formato per capire bene ok dopo sentiremo altre voci del comitato prego noi vogliamo costruire non vogliamo andare contro nessuno perché credo che ci sono quelli che eventualmente non sono riusciti a portare avanti magari le responsabilità ci sono però bisognerebbe vivere quel contesto che oggi non è più possibile noi siamo qui per costruire non per andare contro nessuno comitato promotore non oppositore però nel promuovere non è vero che nulla è stato fatto perché a quei tempi per favorire lo sfruttamento del lago di Quarto ai fini idropotabili e energetici Romagna Acque fece una condotta che da Cesena saliva fino a mercato Saraceno di dimensioni tali che è in grado di portare giù l'acqua che si prende da monte e la si porta indietro l'impianto il depuratore di Baccellino che è costato che è il depuratore di Vallata che è in grado anche di depurare una parte dei reflui e degli allevamenti che ci sono nella Vallata quindi qualcosa è stato fatto poi non c'erano più le condizioni economiche perché l'acqua non si poteva più tirare fuori così come si voleva e quindi poi anche all'interno del nostro ente Zaniboni andò un po' più in crisi montarono su altre idee e quindi si privilegiò la costruzione di un impianto di potabilizzazione sul canale Emiliano con l'acqua del canale Emiliano Romagnolo invece che prenderà l'acqua di montagna ma adesso però tutto questo non c'è più questa differenza perché ancora serve dell'acqua perché è soprattutto serve dell'energia perché l'acqua del canale Emiliano Romagnolo gira in pianura e bisogna pomparla nelle case e ci vuole energia e ci vuole energia allora le dighe costruite l'acqua presa in montagna produce anche energia ecco però a questo punto quindi ha avuto la risposta anche cos'era il contesto di allora per il quale i verdi i green come si dice si opponevano oggi cambiano le condizioni vorrei ricordare a me Alessio Zeni tanto il maestro guardate che proprio si diverte con l'acqua è un vostro un vostro valligiano lui un valligiano della valle del Savio che cosa vuol dire tutto ciò siamo acqua si acqua è un'illusione ottica io sono qui che mi diverto mentre dipingo ascolto mentre dipingo ascolto la puntata a volte le acque sono calme a volte sono un po' più agitate queste sono un po' increspate si cominciano a incresparsi cosa vuol dire che ancora non ci siamo ma si muove qualcosa intanto l'acqua che si muove a volte è pulita quindi anche lei ha l'impressione che ho avuto io dopo questi primi giri che ci sia bisogno di unitarietà intorno a questo progetto perché se un comune si muove in un modo l'altro dell'altro modo ne facciamo pezzettini non si va da nessuna parte è vero? se potevo concludere il discorso precedente sulla ciclovia proprio in questo senso qui di unitarietà se noi riusciamo ad avere una progettazione unica e unitaria di vallata trova forza e dà forza al resto al lago di quarto perché il lago di quarto è un bene comune che è un bene molto bello molto valido e molto interessante occorre inserirlo in un contesto più complessivo ed era per quello l'idea iniziale della famosa ciclovia del sabio che doveva venire tutta la vallata poi per una serie di situazioni purtroppo non è stato possibile progettare in questo modo la parte alta del territorio ha preferito fare altre soluzioni anche in certi aspetti comprensibili e quindi abbiamo dovuto ridimensionare l'intervento progettuale a Mercato e Sassi noi mettiamo d'accordo i germanici che sopra Monaco partono da Stade per arrivare qui e non riusciamo a mettere d'accordo Bagno, Sampiero Sassi nel mercato ci dobbiamo riuscire ci dobbiamo riuscire solo che noi siamo ancora ho parlato anche con gli altri sindaci sono tutti concordi nel quale siamo tutti concordi però al momento della scelta che si è fatta ad esempio nella prima attivazione finanziaria che era il PORFEST cioè il finanziamento europeo purtroppo ma non perché abbiano sbagliato hanno fatto altre scelte il territorio si è diviso la parte alta ha partecipato a un'iniziativa di crinale quindi il collegamento con il parco Umbro-Cosentinè il parco di crinale con il comune di Santa Sofia Santa Sofia ma comprendo benissimo il perché perché hanno avuto un'agevolazione di tipo economico molto forte e per gli amministratori le agevolazioni economiche sono utili quindi abbiamo dovuto inevitabilmente ridimensionare il progetto da quarto a Cesena è un progetto che ha una sua valenza anche perché poi completarlo da quarto a Bagno è praticamente è già fatto di fatto il collegamento lungo la ex la ex provinciale però ci sono anche questi temi quando parliamo di unioni parliamo di visioni comuni parliamo di idee comuni bisognerebbe cercare poi di mantenere di portare avanti fino in fondo infatti come ha detto il mio collega voglio sentire i tecnici dopo noi siamo uniti su questo discorso come comuni purtroppo come ha detto lui un comune ci ha abbandonato però non possiamo darne le colpe perché non è mai troppo tardi ha fatto un altro progetto però come ho detto prima ritorneremo sopra per vedere anche perché come ci ha detto la signora sindaca all'inizio di mercato Saraceno Monica Rossi è chiaro che costruendo l'unione della Valle del Savio con alcuni servizi in comune pensando una possibile fusione domani perché poi le strade non sono molte diciamocelo con chiarezza probabilmente si è costretti ad arrivare non è così signora sindaca la strada l'abbiamo diciamo un po' la stiamo affrontando diciamo in questo momento con delle idee progettuali abbiamo condotto uno studio di fattibilità che prevede due ipotesi una di una fusione di media valle quindi che coinvolge soltanto i comuni di mercato e sarsine e un'altra invece che riguarderebbe Verghereto e Bagno e anche un'ipotesi complessiva invece di fusione a quattro che comporterebbe un territorio di oltre 500 metri quadri un territorio con chilometri e poi 18 mila abitanti quindi diventerebbe per estensione credo il quinto comune in termini di estensione territoriale italiano nazionale quindi diventerebbe una cosa abbastanza corposa ecco dobbiamo vincere quei famosi campanili che a volte ci frenano ma sa per il mestiere che sto facendo io il precedente conosce il mio pensiero molte volte poi i campanili non sono tra la gente sono più tra gli amministratori questo ma lo lasci dire con tutta tranquillità è molto probabile è molto probabile quindi sono in questo senso mi han capito a voi tra l'altro ecco da tecnico diciamo che io credo che un'unità di intenti in questa direzione ci deve essere per forza anche perché il fruitore della Valle del Savio il limite amministrativo non lo vede quindi io credo che lavorare sulle eccellenze della vallata come può essere il Lago di Quarto abbia un ritorno per tutta la vallata sicuramente anche perché la Valle del Savio è molto bella però alcuni degli elementi più belli che ci si trovano ancora non sono così fruibili vorrei tornare sulla parola fruibilità l'abbiamo accennato il Lago di Quarto ad esempio è un'area bellissima ma ad oggi non è possibile a piedi fare il giro del lago perché il lago ci è originato la confluenza di due fiumi il Savio e il Torrente Para uno degli interventi uno dei primi interventi che vengono fatti infatti è a rendere possibile fare l'intero giro del lago tra l'altro il progetto è anche molto bello sono previsti dei ponti tibetani in quota in sicurezza diciamo che Quarto secondo me ha un vantaggio incredibile è un'area ponti tibetani io pensavo dei ponti a livello d'acqua ponte tibetano perché mi insegna poi il signor Casali che per la piena bicentenaria bisogna rispettare le altezze diciamo che il progetto ha rispettato tutto il contesto però ecco una cosa che io voglio dire anche il lago di Quarto è a due chilometri dall'uscita dell'Ai45 due chilometri quindi un'area naturale fruibile ad esempio la diga dei dracoli è un posto incredibile però faccio l'esempio una scuola che deve andare in gita deve arrivare a San Piero fare il passo del canale ci vuole un'altra ora quindi un'eccellenza anche per un motivo di comodità se vogliamo assolutamente da riprendere insieme e questo è importantissimo inserita in maniera perfetta nella ciclovia bene occorre dargli una paternità all'idea di Quarto se non è più valida l'utilizzo per l'uso idropotabile dell'acqua come pare che sia così dovremmo trovargli un'altra motivazione questo è un'altra tema ancora pare non fruibile ai fini idropotabili cosa vuol dire? no perché sì perché è stata liquidata io ricordo a quelle riunioni ho vissuto non come te come cittadino di Sarsina all'ultima nel 92 io ero presente quando ci fu Zanni Boni non nei bar ma fu fatta nella sala della parrocchia ci ricorda ecco fu liquidata non tanto per la questione solamente e veramente ambientale ma su quella che qualcuno sosteneva che nel tentativo di recuperare lo specchio e di svasarlo in parte i materiali che venivano rimossi erano inquinati quindi stiamo parlando dei fanghi depositati fu liquidata per questo ecco la questione secondo me questo è il punto arrivo arrivo perché mi interessa anche questo la gestione dei fanghi dall'E45 non si vede e sarebbe un errore diciamo così gravissimo non farlo vedere il lago perché uno che passa non vede che esiste il lago allora se si fa un'ipotesi in soldoni recuperare lo specchio 500 metri di fronte su entrambi i lati io ho fatto il conto della serva abbassarlo di 4 metri 400 mila metri cubi da asportare almeno abbiamo recuperato dove li mette do? ah ci sono delle il problema è quello che diceva Petrignano ci vuole la volontà si fa tutto questo mondo pensiamo che addirittura il carbone viene trasportato tramite si trova il luogo dove portare si può ai tempi che noi facciamo il progetto venga qui anche lei non abbiamo previsto di spostare e di portare via del materiale dal lago ma di spostarlo all'interno del lago sovralzando una sponda facendo delle sponde sul lato sinistro sul lato sinistro più alta togliendo in questo modo non c'è neanche il problema del trasporto e dello spostamento di materiale che alcuni dicevano che era inquinato o non inquinato perché lo stirava su alcuni dicevano che era inquinato e dopo poi sono state fatte delle analisi tra l'altro sono state fatte allora noi abbiamo fatto noi questo me lo dice lei che analisi avete fatto mi guardi in telecamera perché stiamo entrando nel delicato o ognuno di noi si assume le proprie responsabilità lo dico sempre presidente qui il presidente di ConfCommerce e Vox Populi avete fatto le analisi abbiamo fatto le analisi con un laboratorio privato e abbiamo avuto la conferma che questi valori erano assolutamente nella norma quindi è da rivedere anche questo tipo di valutazione se siano cambiati i tempi o le modalità ad ogni modo abbiamo già dei dati che analisi che dati perché poi a questo punto bisognerà coinvolgere il caro presidente l'ARPAE quindi l'agenzia regionale è già stata contattata per fare un sopralluogo ufficiale quindi è già stata contattata quindi che dati ha lei ha dei parametri mi dica sono dei parametri cosa dicono lo tengo io il limo mi dica la ricerca mi riassuma dei metalli pesanti metalli pesanti metalli pesanti e sono all'interno del RENZ considerato non tossico quindi presenza di metalli non tossico non c'è ma non c'è anche allora non c'erano questi problemi questo è uno problema che ci sono stati tirati fuori per quel motivo per il motivo che c'erano allora mi scusi ingegnere ha ragioni presidente questa è una novità perché c'è molta gente che dice non si può fare perché i fanghi sono tossici l'ingegnere già direttore dice no non è così voi avete fatto le analisi mi guardi in telecamera ma questo limo sarebbe comunque finito in mare e allora dov'è il problema perché adesso cos'è uno stoccaggio di residui tossici il lago di Quarto e questo limo se avesse seguito la corrente fluviale non sarebbe arrivato al mare abbiamo controllato gli altri fiumi cosa ha la vallata del Savio così di particolare rispetto al bidente o altro il limo è inquinato quindi queste sono cose da rivalutare assolutamente da rivalutare in tutti i termini grazie si fermi qui il geologo si fermi pure qui guardi in avanti no non solo poi i discorsi dei termini di inquinamento è sempre un discorso di concentrazione di elementi quindi basterebbe un metro cubo diluirlo il tre che non è più inquinato il concetto di inquinamento è molto labile è una diciamo così definizione di concentrazione di elementi negativi se viene diluita il problema posso fare una domanda da uno no no una domanda lei deve utilizzare il microfono che lo devo io altrimenti non si sente niente ma la vita c'è dentro il lago pesci il lago è un biotopo eccezionale di biodiversità uno dei nostri progetti quelli anche del comitato è quello di creare questa oasi e anche la rimissione di specie rare o estinte come la cicogna la lontra il basettino e altro quindi abbiamo delle idee che sono già strutturate e che ci piacerebbe sviluppare ovviamente con un consenso di una grande massa critica prego dottore perché dopo vorrei farmi una sorpresa perché poco tempo fa abbiamo realizzato un'intervista all'attuale presidente di Romagna Acque il dottor Tonino Bernabè poi capiremo cosa ne pensa anche lui perché è uno dei soggetti forse il soggetto principale forse non tanto per i soldi perché credo che sia più Enel che deve sborsare però è molto interessante prego intanto preparate la pillola il recupero ambientale perché non è detto che si debba recuperare il lago di Quarto solo se ci dà la possibilità di portare l'acqua potabile cioè la creazione di un bioparco di cui si è parlato anche con il comitato più volte deve portare l'attenzione deve portare il turista deve portare le scuole cioè si vuole dovrebbe essere un volano che ridà vita anche all'abitato e le attività che ci sono cioè l'obiettivo di anche sul progetto creare un'area attrezzata nei pressi dell'abitato di Quarto dove ci saranno torretto e berduocin ma anche aule multifunzionali voglio dire degli orti didattici cioè deve sviluppare una serie di attività da quelle didattiche a quelle culturali anche a quelle scientifiche perché è un biotopo diceva benissimo Satanassi interessantissimo anche per motivi di studio e ricerca anche adesso senza riportare benvenga se riusciamo a riportare delle specie che c'erano prima e non ci sono più ma già oggi ad esempio Sterna la cooperativa che studia la vifauna che c'è insomma è qui a Forlì parlando dei nostri vicini trova nell'area del lago di Quarto una delle zone più interessanti per andare continuamente a fare il tratto cari dottori e voi ingegneri sapete che in altri simili similari laghi d'Italia ci sono punti di osservazioni altane biotopi adesso non voglio parlare di quello che è il biotopo di Punto Alberetti che ha tutta altra storia non è un lago eccetera lago Puccini ad esempio datelo a vedere ha questi altane punti per le scuole per gli studi per l'osservazione il birdwatching nelle valli di Comacchio creatività progetti creativi cosmopoliti e a lungo termine che bello questo termine cosmopoliti e ora siamo connessi stiamo parlando di campanile giustamente viene fuori cosmopoliti cittadini del pianeta benissimo interessante citare lei usi sempre il microfono ricordare che tutto il mondo è il paese ma il peso può essere rimesso nel mondo e questo è stato uno dei concetti che ha fatto nascere il Comitato bravo adesso la regia ci fa ascoltare questa pillola e questa intervista dottor al presidente Tonino Bernabè presidente della società delle fonti Romagna Acque dopo 50 anni dalla nascita del consorzio Acque ci rendiamo conto del significato e dell'importanza per la regione e non solo ma anche per tutto il paese della diga di Ridracoli intanto saluto l'amico Pier Giorgio Valbonetti la cofcommercio di Cesena e tutti gli ospiti in studio rammaricandomi di non essere potuto essere presenti con voi il tema dell'approvvigionamento idrico per i comuni romagnoli è sempre stato il tratto distintivo che ha caratterizzato e motivato la nascita nel 66 del consorzio Acque oggi appunto Romagna Acque società delle fonti S.p.A. il tema dell'acqua è un tema vivo la diga di Ridracoli ha rappresentato e rappresenta tuttora il 50 oltre il 50% del fabbisogno idrico della Romagna sfidata anch'essa dal cambiamento del clima come la tenuta di tutto il sistema idrico acquediotistico della Romagna ma un sistema integrato e flessibile rispetto alle diverse fonti presenti sul territorio permette di garantire continuità del servizio a prescindere dalle condizioni di sistema perché è fondato su fonti diverse che si integrano il nostro ruolo chiaramente strategico perché oltre alla raccolta dell'acqua piovana abbiamo il compito di trattarla e di fare la distribuzione primaria sul territorio che cosa ne pensa del rilancio dell'utilizzo del lago di Quarto ai fini potabili rigui anche per una valorizzazione sotto il profilo enogastronomico turistico e ambientale stiamo parlando di un sito quasi completamente interrato non so quanto sfruttabile e naturalmente va valutato il progetto di rinaturalizzazione a scopo turistico in maniera tale da cercare di costruire un equilibrio fra costi e risultati attesi Romagna Acqua naturalmente ha dei vincoli e delle regole nel contribuire a finanziare intermenti tenuto conto che noi siamo sostenuti sulla creazione di opportunità a scopo idropotabile da una tariffa idrica quindi regolati da un'autorità terza da Atersir Emilia Romagna e dall'autorità nazionale per l'energia elettrica il gas e i sistemi idrici quindi per trovare un ruolo che renda compatibile un contributo della società che non ha mai fatto mancare nella sua storia ai sindaci che sono i proprietari appunto di Romagna a quel proprio contributo vanno trovati con il comune di Sarsena con i comuni della Valata del Savio e con la regione Emilia Romagna naturalmente coinvolgendo il gestore Enel Green Power i necessari equilibri e le necessarie soluzioni condivise Bene questa è l'intervista rilasciata dall'attuale presidente del consorzio ex consorzio oggi Romagna Acqua S.P.A. Società delle Fonti mi sembra che ci sia anche un impegno specifico mettersi intorno a un tavolo ragionare tutti insieme ecco io insisto su questo termine dell'unitarietà perché con l'unitarietà di Vallata magari anche trasbordando se volete la Vallata è necessario coinvolgere Santa Sofia fatelo non credo che sia questo il problema che il tema delle foreste benissimo ma tutti che possono contribuire il loro mattoncino per riuscire a cominciare a tirare fuori questo progetto infatti noi ci abbiamo provato e come ha detto Bernabè adesso c'è un po' di difficoltà sulla potabilità dell'acqua quindi come il progettista Elie Cecarelli ha presentato l'amministrazione diciamo che non ha cambiato progetto però ha guardato un progetto al fine di portare la gente con la sentieristica il ponte tibetano che va benissimo la casetta per portare le scuole quindi l'amministrazione ci crede e si impegna però ha bisogno degli aiuti di tutti ha bisogno dei soldi e allora se ha bisogno dei soldi bisogna coinvolgere quelli che ce li hanno perché se vogliamo fare qualcosa che possa andare bene a tutti qualcuno i soldi li deve mettere o li mette l'amministrazione e quindi fa il lago come vuole o se no bisogna andare a bussare alle porte di chi li ha che bisogna fare il lago anche come lo vuole lui infatti oggi siamo in un periodo in cui esistono delle forme di finanziamento anche multiforme alternative lei vorrebbe fare un bel project financing un crowdfunding un euro per il lago di quarto chi e chi non lo dà quanti abitanti ci sono in romagna se ogni criticità nel territorio godesse dell'intervento un milione con un milione non va molto lontano un milione di abitanti in romagna siamo sì no interessato un milione e due in tutta la romagna per dire con un euro non si va molto lontano convenite voi tutti venga venga qui venga qui anche lei venga qui perché qui di quanti euro però dopo di questo lasci parlare gli altri dopo va detto che nel maggio del 2012 conseguì una master in europrogettazione a Bruxelles e rientrando in volo ebbe l'idea di poter focalizzare questo nuovo titolo anche riguardo al lago di quarto quindi un progetto europeo con determinate caratteristiche potrebbe essere costituito quindi invece che la festa di Santa Lucia potremmo fare questa roba qui si potrebbe anche ragionare in questi termini bisogna ragionare in grande sempre per uscire da questa orda di provincialismo che ci ha fermato per tanti anni sottoscrivo davvero quello che lei dice perché siamo tutti ammalati siamo d'accordo la sottoscriviamo tutti questa gli strumenti finanziari possono essere diversi le progettualità possono essere diverse quello che però secondo me ancora manca è dargli il titolo vero al lago di quarto lago di quarto uguale deposito di acqua o lago di quarto uguale ambienti da tutta l'altra bio aspetta ingegnere definiamo definiamo ingegnere lago di quarto come? ma benissimo bio lago anche però bisogna avere in mente che occorrano dei finanziamenti qui i finanziamenti i finanziamenti che finanziano possono essere probabilmente un po' romagnacchi ma l'Enel allora occorre far sì che l'Enel produca più energia di quella che è attuale quindi o sfruttando l'acqua del lago in modo diverso o costruendo a monte un'altra opera che fa funzionare la centrale dell'Enel in modo che l'Enel abbia un vantaggio e fa l'opera a monte produce anche acqua potabile che viene venduta leggevo proprio in questi giorni forse interessa a tutti voi i tecnici mi scusi che al tempo degli anni 20 e 30 20 e 30 si pensava a piccole centrali elettriche lungo tutte le vallate progetto che è stato dimenticato oggi Green Power va sostenendo l'amministratore delegato proprio in questi giorni ha detto il nostro futuro è nelle energie rinnovabili l'ha dichiarato questo è il punto quindi c'è una conversione dello stesso ente Green Power questo significa il potere verde ma poi visto che Enel ha sempre sfruttato il lago vorrebbe essere il primo ente a dare una mano per la riqualificazione bene torniamo alla ciclovia no mi segua lei non vuole mi segua nel tema della ciclovia stiamo lungo l'asse della ciclovia bene dica ciclovia del sabio come dicevo prima no lei deve usare il microfono bene è ingegnere per cui non è abituato ancora prego la ciclovia del sabio nella sua come dire sviluppo complessivo ovviamente come dicevo prima parte dalla fucia del sabio arriva fino al fino a Verghereto è circa si sviluppa per circa un centinaio di chilometri adesso do alcune informazioni anche per sapere un po' il fiume è 126 leggo da qualche parte il tracciato stradale è circa 100-110 chilometri e attualmente la la situazione dello stato di attuazione è più o meno questo da Cesena verso verso il mare sono stati realizzati circa 20 chilometri nel comune di Cesena tanto vediamo delle immagini proprio di percorso grazie per queste immagini sono molto molto belle prego è un'immagine degli utenti che ci sono una biciclettata una biciclettata esatto attualmente sono quindi realizzati circa una ventina di chilometri lungo l'argine del fiume Savio quindi è una greenway sostanzialmente cioè una via strada verde via verde la possiamo definire in questo modo quindi in sede propria con alcuni tratti promiscui che arrivano fino al confine che è Canuzzo di Cervia si entra in provincia di Ravenna si entra in provincia di Ravenna e si entra in particolare nel comune di Cervia col comune di Cervia stiamo abbiamo già realizzato 4 chilometri che da Canuzzo arrivano Castiglione di Cervia abbiamo appena consegnato il progetto esecutivo andrà in appalto quest'altro tranno altri due chilometri che arriveranno fino e nel giro di qualche anno presumiamo di arrivare fino al mare io vorrei darvi un'altra idea perché dopo devo andare in pubblicità soprattutto gli amministratori i primi di gennaio farò una puntata di Ping Fong dal titolo leader dedicato ai Gal voi sapete il gruppo A di azione locale l'altra Romagna che viene finanziato con 6 milioni 800 900 mila per il nostro territorio il quale territorio nostro attenzione che parte con le foreste casantinesi parco e si collega all'altro Gal che è quello di Comacchio e Cervia quindi se voi immaginate una linea tra le foreste casantinesi il bioparco e il parco del Po è una cosa enorme è la provincia la Camarga italiana questa è così ingegneri cari non è così chiedo scusa ha fatto una ipotesi di averla inserita quando il Gal ha fatto il primo accensimento nei comuni del proprio territorio come Gal di lanciare delle idee di lanciare delle novità di lanciare qualcosa da inserire nel loro programma nel PAL il PAL del Gal cioè il piano sì sì il piano di azione sì sì che è detto sembra una scioglilingua sono tutti acronimi l'unione nostra ha inserito l'idea progettuale iniziale della C5V di Vallata per tutti i comuni poi il Gal fa i suoi percorsi fa le sue verifiche e non lo so non lo so è qui signore sindata non lo so dove devo finire chiedo scusa ma è qui ai nostri telespettatori ai soci che dobbiamo dire ma insomma il Galle Foresti Casentinesi il parco il bioparco il parco del Delta del Po Cervia e poi tutti i comuni ex amministrazioni provinciali e poi le autorità di Bacino e poi chi ne ha e chi più ne ha più ne metta non ne usciamo mica non ne usciamo però ci fermiamo che intanto ragioniamo pubblicità essere imprenditori è una sfida continua affrontala con la squadra giusta scegli Confcommercio Imprese per l'Italia con i nostri servizi la tua impresa riparte con una marcia in più www.confcommerciocesenate.it Abbiamo citato all'inizio di questa puntata di Vox Populi con la signora sindaca del comune del mercato Saraceno signora Rossi ci ha descritto la vallata e nella vallata a Sarsina per l'esattezza a parte che a Sarsina ha un museo archeologico che è uno dei più belli d'Italia quindi cominciamo anche a dire che oltre all'aspetto ambientale non me ne voglio anche il mercato Saraceno poi Bagno San Piero cioè qui ci sono delle caratteristiche tutte diverse che messi insieme danno un'idea unitaria davvero interessante pensate al museo di Ubulacco al Tito Maccioplauto abbiamo citato Tito Maccioplauto all'inizio 2200 anni dalla morte e però così come dicevano altri due poeti uno greco e uno latino Fedor e Desoppo la volpe e l'uva non so se voi andando a scuola vi ricordate la volpe e l'uva lui arrivava alla fine e dice la favola insegna che allora il dibattito insegna che vogliamo arrivare alla conclusione voglio capire da ciascuno di voi proposte concrete passaggi concreti perché a nostra rispressione ci sono 20 minuti e dovete farcela dobbiamo capire che cosa fare vice sindaco di Sarsina dobbiamo far sì che Quarto abbia il suo biolago quindi la sua OSI dove può riportare gente può portare turismo e il piccolo comitato di Quarto può lavorare insieme all'amministrazione a far sì che questo avvenga ma perché signor presidente quindi sto parlando a lei e al suo collega presidente i due quindi mercato Sarsina abbiamo sentito il vice sindaco che dice il bioparco di Quarto il comune eccetera io mi aspettavo che dicesse allora la mia proposta è che questo sia il bioparco il biolago dell'intera valle del Savio me l'aspettavo è quello che aspettiamo tutti e vorremmo vedere finalmente dopo tutte queste belle cose che stasera abbiamo sentito molto interessanti alcune nuove alcune già sapevamo che ne venga fuori qualcosa di concreto cioè chi è di dovere deve cominciare a tirare fuori quello che si può per far sì che questo sogno diventi realtà io non ci siamo riusciti però chissà possiamo anche farlo una piccola indagine su gli esercenti di mercato e di Sarsina cosa vogliono cosa dicono cosa pensano quello che dicono pensano poi tutti i commercianti cioè abbiamo bisogno di valorizzare abbiamo bisogno di portare gente dal punto di vista poi sempre commerciale turistico perché la gente porta ricchezza ma portando ricchezza porta ricchezza a tutta la zona non al singolo commerciante quindi più riusciamo a mettere in campo naturalmente facciamo il bene poi di tutti noi abbiamo bisogno di rivalutare la nostra valle i nostri comuni penso che non sia più da pensare ormai a ieri perché ieri diciamo forse ognuno ha pensato ognuno delle varie amministrazioni ha pensato per me un po' un po' per sé penso sia ora di finirlo e di cominciare in un modo diverso visto che siamo arrivati all'unione dei comuni a quest'unione penso che sia ora di ragionare un po' tutti assieme di ragionare assieme e di essere uniti allora forse qualcosa si può fare partire di nuovo questo progetto che è stato presentato dall'amministrazione e dall'ingegnere presente è un progetto che non è che intervenga più di tanto nel lago stesso è un progetto che interviene attorno attorno al lago nel senso di rivoltare la zona più vicina al paese e più vicina alle attività commerciali per ridare un po' di vita perché veramente ce n'è bisogno perché stiamo morendo stiamo proprio andando alla deriva anche perché mi perdoni il presidente Patiniani può aiutarci come tutti voi guardate che in questo momento al di là referendum sì referendum no non entro nel merito mai acqua passata non è questo però stiamo vivendo come paese un momento di passaggio anche di tipo economico o agganciamo la ripresa e la ripresa attenzione dicono gli economisti lo sviluppo economico non è indifferente su tutto il territorio nazionale l'insieme della ripresa economica è tanti pezzi delle riprese economiche dei singoli territori quindi o noi o voi Valle del Savio vi preparate ad agganciare la ripresa se no sarà ancora peggio perché Milano Roma per parlare delle grandi città ma anche dei comuni che si stanno mettendo insieme andranno avanti voi tornerete indietro questi sono i termini economici bisogna che cominciamo a ragionarci su queste cose prego proposta concreta concreta il lago di Quarto è un valore a prescindere questo è riconosciuto da tutti credo che però è un valore della valle il valore della vallata dell'unione di tutta la vallata il valore anche della Romagna è un valore in ogni caso al di là dei confini amministrativi o dei confini di territorio questo è un atto acquisito come fare per dare a questo valore la giusta la giusta la giusta propensione anche economica va inserito in un concetto che può essere stasera abbiamo parlato di due concetti sostanzialmente il lago di Quarto è un deposito di acqua e quindi uso di dopotabile dell'acqua oppure il lago di Quarto è un biotopo un insieme naturale un aspetto ambientale estremamente interessante io credo che la proposta vincente non possa che essere questa non possiamo pensare noi di andare a rivedere la funzione del lago di Quarto per uso di dopotabile come magari era stato fatto quando si è nati va individuato il suo valore ambientale il suo valore di tipo strategico per quello che io dico va inserito in un discorso complessivo e il discorso complessivo è quello con cui siamo partiti la ciclovia che parte dalla foce del Savio arriva al parco di Crinale dove coglie tutta una serie di aspetti compreso il lago di Quarto che di per sé è un valore ma coglie anche la ricostruzione del ponte di Merquarto adesso me lo faccio descrivere non me lo bruci me lo devi descrivere questo che facciamo vedere Mauro guardate questo è un quadro che risale a al 1929 quindi originale 1929 questa è una riproduzione dell'originale l'originale è stato dipinto da un artista locale nel 1929 ritrae il vecchio ponte sul Savio che è un po' stiena d'asino con due ogive questo era l'unico ponte che attraversava il Savio in tutta la sua lunghezza l'unico il ponte alternativo era il ponte vecchio di Cegena non esistevano altri il ponte dei frati di San Piero è venuto in periodo successivo c'era il ponte bai di oggi della guerra questo ponte qui fu costruito alla fine del 1400 per unire le due spondi del Savio per favorire appunto i commerci fra il monte Feltro la Toscana il Gran Ducato di Toscana e la Romagna e da questo ponte qui praticamente poi è nato è sorto e si è sviluppato tutto il paese di mercato saraceno chissà caro Presidente quante volte questo ponte è stato percorso per esempio da Marco Pantani quando è salito su per i tornanti per andare al barbotto per scelare il ponte lì non esiste più nel 1959 non esiste più lei vorrebbe ricostruirlo? lo dovremmo ricostruirlo nell'idea ciclovia uno dei valori aggiunti per mercato è la ricostruzione di questo percorso che era l'antico percorso di Dogana fra il pontificio e le Romagne quindi ha un valore anche di tipo storico allora però qui stanno emergendo caro ingegnere tutti voi il vice sindaco ha detto o o o e cioè qui o si fa una roba ai fini un biotopo lo chiamiamo il biolago ai fini turistici ciclovia eccetera eccetera o ai fini potabili ecologici eccetera economici eccetera secondo lei Ingegni Marini perché o o non può esserci unitarietà ci deve essere unitarietà perché con l'unitarietà si trovano i finanziamenti e l'esempio che l'unitarietà fa andare avanti queste cose è l'esempio attorno alla diga di Ridracoli è costruita dentro al parco delle foreste chesantinesi e si è sviluppato un economia turistica nelle case recuperate nelle case che sono dentro il lago e in generale nelle visite che si fanno che si è potuta formare solo perché c'era anche la parte economica che viene dall'asfruttamento dell'acqua ma questo sfruttamento non è che rovina l'ambiente lo sfruttamento migliora la biotopia la biotopo e attenzione agli accenti perché ci sono anche degli esemplari che potrebbero ricordare il biotopo ultimamente viene dal greco biotopos che significa luogo paesaggio territorio una proposta siccome come dice lei bisogna andare avanti in modo unitario occorre che probabilmente la confcommercio o un ente che riesce a regruppare tutti noi adottiamo la confcommercio come organizziamo una conferenza fra i sindaci la regione l'Enel la Romagna Acqua e tutti quelli che sono interessati facendo una roba che dove queste cose che qui abbiamo detto così vengono rappresentate in modo migliore col progetto con delle schede che spiega ma guardi in questo momento ci sono 300.000 cittadini romagnoli che stanno guardando bene allora è importante che si faccia una cosa leggera in modo che viene fuori una idea un'idea unitaria di come fare sviluppare perché indubbiamente io l'ho visto l'ho girato a piedi dietro il lago ai tempi che andavamo fa è una cosa veramente interessante per cui bisogna renderla io conto poco però sposo la sua idea prego benissimo allora cosa fare un po' quello che stiamo facendo non è che sono un pecco di protagonismo con il nostro gruppo però cosa fare allora intensificare il dibattito e coinvolgere l'opinione pubblica è quello che stiamo facendo con dei video su youtube attraverso la rete attraverso una newsletter insomma e attraverso anche degli spazi fisici dove coinvolgiamo le persone a sottoscrivere a sottoscrivere il nostro obiettivo che è quello di valorizzare e riqualificare il lago di quarto che vuole dire tante cose io sono per le e e cioè le tra le due fasi tra sfruttamento idrico e energetico tutti e due insomma sì perché la vita è l'acqua e il turismo in Italia che è il più bel paese del mondo ognuno nel suo posto lo deve saper raccontare e noi ci proviamo sentiamo i tecnici io sono d'accordo che le due cose possono convivere però ci sono investimenti e tempi diversi nei due tipi di utilizzo dell'area quindi io credo che si potrebbe anche fare un ragionamento e qui credo che la concertazione tra gli enti coinvolti e anche gli enti territoriali sia importante ragionare anche con degli step siccome dei progetti già ci sono parlo della ciclovia parlo del lago di quarto che messi in rete insieme ad altre eccellenze del territorio potrebbero già partire io dico portiamo avanti il dibattito sulla sulla l'idroelettrico la potabilizzazione benissimo però intanto io credo che questi progetti che sono più pronti forse debbano cioè dobbiamo provare a farli partire tradotto vuol dire meglio un nuovo oggi che la gallina domanda per far questo come dice ha ragione anche l'ingegnere Marini che bisogna comunque portare i responsabili o non i responsabili più che altro quelli che possono comunque contribuire gli interessati qui a tavolino oppure trovarsi assieme per vedere chi è disposto a collaborare io non ho mai accettato che il lago di quarto sia un soggetto morto io non l'ho mai accettato io credo che abbia ragione il signor Petrignani ci vuole per fare le cose volontà qui la volontà è quella in parte io ma penso così ed è per quello che ho sempre preso le distanze da quando ci sono stati quei dibattiti perché un soggetto morto il lago di quarto il lago di quarto deve vivere può vivere solamente se gli si dà la funzione che avrebbe avuto senza lago bisogna restituire alla parte valle parte del materiale che ne è stato imprigionato bisogna avere coraggio queste sono le cose che debbono aprire la mente e le dighe bisogna ridare al territorio ciò che aveva io non dico di invadere con delle piene stratosferiche ma la soluzione sarebbe io questo l'ho detto fin da quando c'era Cappelli la soluzione è una piccola draga una piccola draga che ridà a valle la stessa limo che gli arriva dai due bra che cosa portiamo di squilibrio sul territorio se facciamo così ma è un progetto che non costa mica dei milioni una chiatta usata che lavora quattro mesi all'anno durante il periodo indianale ditemi voi che cosa costa bene io direi prego precedente io direi visto che come ho detto proprio l'omedi ero domani acque quindi conclusione la sua proposta mi prego la confcommercio quindi faccio qui una proposta a Patignani si faccia portafila di questo progetto cui l'amministrazione crede ma come abbiamo dimostrato con l'unione quindi con il comune di mercato cioè stiamo lavorando tutti sullo stesso progetto la ciclovia unisce i comuni però bisogna che arriviamo a un dunque quindi chiedo alla confcommercio che ci dia una mano nella trattativa con Regione Ministero e Romagna Acque per far sì che si avveri questo progetto bene questa è una proposta concreta caro Presidente la si può fare mettendo intorno a un tavolo noi è già da un po' che ci stiamo lavorando a questo progetto perché rappresentiamo le imprese e poi siamo anche cittadini di questo territorio quindi se sviluppiamo la Valle del Savio significa portare ricchezza in questo territorio e dove ci porta ricchezza si migliora anche l'ambiente quindi noi siamo per questa strada noi faremo la nostra parte la faremo fino in fondo e vi metteremo tutti attorno a un tavolo perché vogliamo far sapere all'opinione pubblica vogliamo far conoscere ai nostri cittadini chi sono i loro amministratori perché bisogna che ognuno si prenda le sue responsabilità quindi gli amministratori devono cominciare a dialogare e a trovare poi la soluzione però per andare a punto non che dialoghiamo 50 anni bisogna che in un tempo ragionevole siamo tutti quanti d'accordo per andare in una certa direzione perché è chiaro che se uno dice no bisogna fare solo questo perché se no è chiaro che troveremo il compromesso è un'arte e non è un male affare il compromesso è l'arte di sapere stare insieme quindi le ragioni di tutti devono andare a compimento perché se no alla fine senza i soldi poi tra l'altro senza i soldi chi è che fa questo lago non fa nessuno cioè quindi mettiamo assieme l'economia con la cultura la storia tutto quello che volete però alla fine dobbiamo raggiungere il risultato e noi questo cercheremo di farlo la invitiamo a quarto per anche offrire il nostro tavolo no no ma facciamo qui il Vox Populi d'accordo col Presidente in cui qui chiameremo i sindaci Presidenti tutti i sindaci del territorio compreso Santa Sofia Romagna Acque Enel Green Power le foreste che argentinesi ma soprattutto la regione il suo assessore e il direttore che conosce più di tutto le partite guarda io penso di aver dimostrato stasera aspetta no ho finito lei sicuramente è stato disponibile più di altri io stasera avevo un impegno fra l'altro per un progetto turistico che è andato in onda diciamo a Sarsina questa estate dove fra l'altro ConfCommercio è stato uno dei partner degli sponsor però proprio per venire a questa trasmissione non sono andato io la ringrazio a nome di ConfCommercio la ringrazio a nome di ConfCommercio quindi dimostro di avere interesse andando verso la conclusione Presidente se ho capito bene tutti gli incontri eccetera però dobbiamo mettere il quinto non tra lo siete voi io e gli aspetti tecnici ma anche coloro che hanno potere decisionare nelle mani e abbiamo detto questi enti con ciò però bisogna che siamo chiari non è che oggi chiediamo se ne avessimo la potestà caro Presidente e direi fermatevi perché adesso dobbiamo fare il progetto unitario no occorre che sappiamo che ci sia il progetto unitario nel quale ci sta la ciclovia ci sta il bioparco ci sta l'idro potabile ci sta eccetera non si ferma niente non può essere chi ha avuto idea fatto progetti e sta costruendo deve andare avanti però l'importante colgo questo io Presidente la necessità di una unitarietà del progetto di Vallata che investe gli amministratori le organizzazioni gli enti pubblici e privati perché non ne abbiamo parlato stasera ma forse ne ha accennato il Presidente di Dilaghiamo ma perché non possono essere coinvolti in quest'opera caro Dottor Bucci draga non draga pulizia totale parziale anche imprese private in progetti adesso io ho accennato il crowdfunding non è che creda molto perché con un euro o due euro non si risolve il problema però con un project financing con altre cose c'è la possibilità di coinvolgere i privati Presidente io lascio a lei la conclusione perché stiamo andando alla conclusione io direi che questa serata l'ho trovata molto interessante credo che sia propedeutica a portare avanti questo progetto dobbiamo lavorare assieme perché se non stiamo insieme non arriviamo da nessuna parte tutti gli enti coinvolti dobbiamo in una qualche maniera farli venire attorno al tavolo e ascoltare anche le loro ragioni però credo che la Vallate del Savio e dei laghi perché io ci metterei dei laghi perché il lago mi emoziona di più e poi anche la pubblicità turistica Valle del Savio e dei laghi secondo me ha una PIR superiore ci deve mettere tutti quanti attorno al tavolo e raggiungere l'obiettivo credo che questa sia la strada dobbiamo coinvolgere tutti e stare uniti se stiamo uniti modulabilmente il risultato lo portiamo a casa se invece ognuno poi vuole andare un po' per la sua strada non si fa altro che disgregare il gruppo e poi non raggiungiamo l'obiettivo io caro Presidente si alzi anche lei perché vogliamo compromettere la signora sindaca del Comune di Mercato Saraceno che si assume a nome delle istituzioni anche lei l'obbligo di metterci insieme per ragionare su questo giustamente come diceva il Presidente Patrignani la Valle del Savio e dei laghi perché ci sono altri due o tre specchi d'acqua che sono bellissimi pensate a Pontini ad Acqua Partita chi non sia della Romagna sono due piccoli laghi ma sono due perle incastonate proprio nel nostro appennino che vengono prima a Monte e il Lago di Quarto dopo lei se le assume questo impegno dica di sì sì perfetto Presidente ma io ho sentito anche gli altri sindaci sono tutti concordi è chiaro che poi ognuno tira l'acqua a volte un po' al proprio mulino perché è anche normale perché poi devono essere rieletti e quindi un po' di mulino ce l'hanno però se noi siamo bravi li mettiamo attorno al tavolo e difficilmente poi riescono a scappare quindi questo è il nostro impegno di metterli tutti attorno al tavolo bene io vi ringrazio ringrazio no no sono la conclusione siate bravi siete stati fino adesso molto bravi molto partecipi per i protagonisti vorrà dire che in gennaio febbraio con le istituzioni gli enti dei quali abbiamo parlato e non sono presenti mettiamo tutti insieme al presidente e ai sindaci intorno al tavolo e lì discutere questa ripresa poi i progetti li fate nei vostri comuni con le vostre organizzazioni insomma per far capire alla gente ma soprattutto anche agli emiliani qui stiamo parlando di Romagna la Romagna sta andando verso un'area vasta dopo quella sanitaria ha un'integrazione tra le province perché non è possibile immaginare una cosa diversa tra Rimini Follicesena e Ravenna tema sul quale sta lavorando anche il presidente Sì la Romagna è quella dove noi dobbiamo arrivare Lei è il brand Lo dite Il brand Romagna deve diventare un brand che deve essere conosciuto in giro per il mondo Dobbiamo andarci assieme perché se uno ci va solo con la sua piccola località non se lo ricorda nessuno invece la Romagna se la ricorderanno tutti e quindi tutti insieme dobbiamo percorrere questa strada Bene grazie presidente grazie signora sindaca me la mette questo tema del discorso di genere del vocabolario di genere signora sindaca eh va bene la parità significa anche questo grazie grazie a tutti voi grazie a tutti ciao a tutti essere imprenditori è una sfida continua affrontala con la squadra giusta scegli Confcommercio Imprese per l'Italia con i nostri servizi la tua impresa riparte con una marcia in più www.confcommerciocesenate.it Romagna capitale Romagna ballerina Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina Romagna passione da che specchi nel tuo mar Romagna capitale Romagna super star